Non sono passate inosservate le dichiarazioni dell'onorevole Claudio Fava che nella sua veste di esponente della Commissione parlamentare antimafia ha definito Barcellona Pozzodigotto capitale della mafia. Dichiarazioni riportate in prima pagina da un quotidiano locale ribadite ai nostri microfoni che hanno scatenato un acceso dibattito anche sui social network. Un dibattito dal quale è scaturita anche l'organizzazione di un flash mob a Piazza Duomo con l'obiettivo di manifestare repulsione per tutte le mafie ma anche per respingere qualsiasi etichettatura sostenendo che Barcellona Pozzodigotto è fondata sul lavoro di gente onesta. Sull'argomento è intervenuto anche il consigliere comunale Carmelo Cutugno il quale ha affermato attraverso una nota che la politica deve aiutare barcellonesi onesti a trasformare la città del Longano da capitale della mafia a capitale di legalità e sviluppo. Ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'immane lavoro che stanno svolgendo Cutugno sostiene che è fondamentale di fronte al fenomeno mafioso e che ognuno faccia la sua parte. Secondo il rappresentante del civico consesso la politica oltre ad accendere il riflettore sulla criminalità organizzata deve sforzarsi per trovare soluzioni e iniziative atta ad arginare il dilagare di quest'ultima. E' noto a tutti come la mafia trovi l'infa vitale nei territori dove la disoccupazione è a livelli altissimi e quindi occorre aggredire con crescita e sviluppo il terreno sottratto dalla mafia stessa. Cutugno chiede che le autorità e in primis il presidente del consiglio Matteo Renzi programmino una serie di investimenti che siano volano di sviluppo per Barcellona Pozzodigotto e per l'intera provincia di Messina.